Resident Evil arriverà su Xbox One, PS4 e PC il prossimo mese di gennaio. Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla demo, aggiornata da poco e con più di 3 milioni di download all'attivo, Capcom è pronta a riprendersi il trono dei survival horror, con un'opera che ribalta le convenzioni del franchise, portandolo in primis in prima persona. Per un'avventura che punterà fortemente sulle scosse psicologiche e su atmosfere ansiogene e ricche di terrore puro. Un ritorno alle origini, seppur poggiato su basi tecniche e di gameplay differenti. Eppure, il colosso giapponese ha fatto più volte capire che gli elementi che hanno contribuito a dare forma alla mitologia di Resident Evil ritorneranno. Una commistione dunque, fra vecchio e nuovo, per una combinazione che punta a svecchiare meccaniche vecchie di vent'anni, non perdendo di vista i nuovi traguardi raggiunti dal genere horror. Il risultato è una demo agghiacciante, che lascia in sospeso innumerevoli punti interrogativi, ma che apre le porte ad una nuova via per Resident Evil. In definitiva, se siate amanti del genere horror, non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire la nostra prevendita su Resident Evil 7. Grazie a tutti.